Il Comune di Mascali è aderito all'avviso pubblico da parte del Ministero dell'Istruzione del Merito per la costruzione di un nuovo asilo nido. Siamo riusciti comunque a rientrare nel progetto, nell'avviso e in quest'area sorgerà un asilo nido con 40 posti disponibili per un importo pari di 1.152.000 Euro. L'obiettivo di questa amministrazione comunque è raggiungere quelli che sono gli obiettivi standard anche dell'Unione Europea per ampliare l'offerta formativa non solo di educazione e di cura delle bambine e dei bambini del nostro territorio per raggiungere l'obiettivo europeo del 33%. Questa è un'area dove sorgerà la nuova struttura e di cui a breve poi ci saranno tutto l'espletamento del progetto e l'inizio dei lavori. Grazie all'apporto dell'ingegnere Cerra che è uno degli ingegneri incaricati per il PNRR siamo riusciti a focalizzare bene questo progetto per inserirlo in un'area già di proprietà di questo comune. Questa è una delle aree su Carabba in via Dottor Laspina che è stata ceduta per delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie da parte delle imprese parecchi anni fa e sono due aree diverse. Su questo sorgerà questa struttura che ha detto benissimo il vice sindaco e questo serve a razionalizzare meglio tutto quello che è il nostro sistema scolastico nel nostro territorio. Ci aiuterà a mettere in condizione nel futuro anche la scuola di Carabba portando poi da lì a qui anche quella che è l'asilo nido e valorizzando quella scuola soltanto per scuola elementare e questo sarà il miglioramento che si potrà ottenere attraverso un finanziamento del PNRR che nel nostro territorio è utilissimo per dare certamente uno spunto maggiore a quei servizi necessari alla collettività. Grazie.